Benvenuti a questa seconda parte di Valori in Corso, quella che chiamiamo alla ricerca del senso perduto. Prenderemo le parole che ci hanno più colpito durante il dibattito di un'ora e mezza che ci ha preceduto, proprio per capire se i valori che emergono hanno ancora un senso nella nostra vita oppure no. Questa sera stiamo parlando di giovani in mondo del lavoro, abbiamo capito che il problema non è soltanto economico ma anche un problema esistenziale. Le testimonianze sono state tante e non vertevano solo sugli aspetti economici, vertevano anche sullo scoraggiamento che coglie un giovane di 30 anni quando si rende conto di essere senza arte né parte e si rende conto di non avere poi questo grande futuro. Io vorrei sentire a questo riguardo una riflessione da parte di Manuela Bausano, psicoterapeuta che ci accompagna sempre all'inizio di questa seconda parte. Manuela, questi giovani sono davvero così in crisi? Allora io riparto dal titolo della prima parte, padre perché mi hai fatto questo, e chiamo in causa i genitori che fino adesso sono stati un po' defilati e parto da una denuncia degli Atenei milanesi, un po' datata in realtà, risale a un paio di anni fa, spero che nel frattempo i dati siano cambiati, gli Atenei si sono accorti, in particolare quello del territorio milanese, che gli studenti che andavano ad iscriversi al primo anno di università, molti di questi non ci andavano personalmente ma mandavano i genitori se non addirittura i nonni. Quindi si verificava un intasamento dei centralini delle segreterie perché i genitori facevano telefonate fiume chiedendo di tutto di più e quello che doveva essere uno sportello informativo diventava uno sportello di ascolto, quasi di sostegno psicologico. Oppure si presentavano alle code chilometriche fuori dall'università chiedendo una delle domande, abbiamo scelto di fare ingegneria, che cosa dobbiamo fare? E già il plurale mi sembra che indichi che i confini non ci sono tanto fra le generazioni. Dunque che cosa ci dice questo? Se da un lato ci sono dei genitori che fanno un po' fatica ad abdicare al loro ruolo genitoriale, quindi hanno bisogno di sentirsi forse ancora importanti, è vero che dall'altra parte ci sono in questi casi, ed è una realtà parziale, giovani e ragazzi che glielo consentono e che in questo sono un po' complici e che vanno a colludere insieme ai genitori nella formazione di questi strani meccanismi relazionali. In molti casi, e qui di nuovo chiamo in causa i genitori, mi chiedo qual è il processo che sta dietro la scelta dell'università di uno studente, cioè l'università la voglio fare perché è una scelta consapevole, perché ho un progetto di vita, perché mi sono informato, perché ho un desiderio e cerco di realizzarlo, o perché vado a soddisfare aspettative che non sono le mie, ma che sono quelle di mamma e papà, e sono tanti in casi in cui è importante che nostro figlio faccia l'università perché siamo tutti laureati, oppure al contrario, proprio perché nessuno di noi è laureato, è importante che lui lo sia e che si differenzi. O ancora, io mamma, io papà, che tanto desideravo laurearmi, che non ci sono riuscito, riverso su mio figlio tutte le aspettative e i miei desideri di realizzazione. Ora, questo fa sì che spesso ci si trovi incastrati in una scelta, in un progetto che non è il proprio, certo si può cambiare per carità, nulla è una condanna a morte, ma questo crea un grosso conflitto che non è più solo formativo o professionale, ma che diventa, sono fedele a me stesso e faccio quello che voglio fare, quando anche questo voglio dire fare lo scultore e mi permetto così di tradire le aspettative dei miei genitori o decido di tradire me stesso per essere fedele alle aspettative dei miei genitori e quindi vado a infilarmi in quel circuito lì. Questo perché è uno spaccato, non è l'unico, poi certo ce ne sono tanti ed è una realtà felice di studenti che ancora ci credono, che non mollano e guardo Cristian e guardo tutti gli altri perché sono stati guidati da una scelta consapevole, pur nella consapevolezza della fatica e delle difficoltà che si incontreranno durante e dopo. Ritorno al discorso di prima, che alimentare la motivazione non è facile, però... Sì, se c'è una convinzione alla base della scelta ovviamente la motivazione sarà più facile da sostenere, da tenere viva. Sentiamo i ragazzi, partiamo da Stefano che è qui vicino a noi. Stefano, tu attualmente fai lo psicologo, ho detto che hai aperto partita IVA, anche tuo padre faceva lo psicologo? No, mio padre fa il rappresentante. Come mai questa scelta? Questa scelta veramente è dettata un po' da quello che diceva anche la dottoressa Bausano, appunto dal fatto che spesso io vengo dal sud e nel sud c'è una grossa percentuale di ragazzi della mia età che si iscrivono all'università perché non c'è nient'altro che l'università e spesso ci si ritrova all'università anche perché i genitori appunto spingono dicendo ma forse può essere il momento di dare una svolta alla propria vita. La scelta poi ricade su alcune facoltà, magari a numero aperto, magari un po' più semplici che poi... Ecco ma in queste scelte che al sud effettivamente sono un po' dovute visto che il tessuto imprenditoriale è molto ridotto, queste scelte di overskilling, di studiare, 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 sono poi partecipate in qualche maniera dei genitori oppure c'è un totale affidamento al mondo scolastico? Credo che sono quasi totalmente partecipate dai genitori perché sono le famiglie che invogliano più che altro i giovani ad andare a studiare all'università, magari a spostarsi, a prendere una casa in affitto in una regione attigua se per caso non c'è l'università vicino casa però di solito sono spesso le famiglie che spingono invece confrontandomi anche con i miei colleghi del nord che per esempio lavorano da quando avevano 19 anni hanno scelto loro di lavorare a 19 anni, cioè l'università era un momento. Però quando dici i genitori spingono in realtà io non la vedo una cosa positiva anche perché ti dico la mia esperienza, io paradossalmente faccio lo stesso mestiere di mio padre, un mestiere molto particolare, non è il giornalista, questo lo diciamo anche per il pubblico, però curiosamente mio padre non mi ha mai insegnato nulla, io mi sono trovato per caso dopo tutto un percorso di studi molto variegato a occuparmi delle stesse cose di cui si occupava lui e mi sono sempre chiesto, ma non poteva insegnarmi qualcosa a lui così? Iniziavo dieci anni prima. I destini comuni, sì. I genitori molto spesso affidano il figlio così come Mosè venne affidato con la culla alle acque, lo affidano alla scuola e dicono alla scuola portalo a realizzarsi nella vita, però poi si disinteressano completamente dal punto di vista materiale, come dire, dell'accompagnamento nello studio. A volte sì, a volte no, spesso molti linee genitoriali vengono anche tramandate senza volerlo e quindi poi alla fine ci si ritrova un giorno a guardarci allo specchio e a dire, accidenti, sto facendo lo stesso lavoro di mio padre. Ma questo è sempre stato così, insomma, secondo me è anche una buona cosa che ci sia la trasmissione del mestiere da padre a figlio, solo che oggi nella nostra realtà si dice, ok, devo occuparsi nella scuola, la famiglia affida appunto il figlio alla scuola e spera che lo porti a successo nella vita, ma la scuola oggi in Italia non è in grado di farlo, oggettivamente io vedo che non è in grado di farlo. Sì, io ho partecipato all'orientamento universitario quando facevo l'università e devo dire che chi arrivava dalla scuola arrivava totalmente su un altro pianeta, addirittura già vedendo i banchi messi ad anfiteatro si spaventavano questi ragazzi dicendo che venivano dal barese, ma non per dire che a Bari per esempio, si spaventavano dicendo ma qui che fate teatro oppure così, perché sono messi in questa posizione, proprio perché la dimensione del banco cambiava, diventava, quindi anche proprio la dimensione logistica cambiava totalmente quello che era, quindi ci si catapultava in un mondo che era totalmente scollegato, scuola, università. Sì, è molto scollegato, sentiamo anche un po' gli altri ragazzi, una domanda generale, c'è qualcuno di voi che sta studiando per fare lo stesso mestiere dei genitori? Nessuno? Nessuno. Tu? Cristian? Sentiamo Cristian, che mestiere è? Io non è stata una scelta dettata dai miei genitori ovviamente, però diciamo che loro in tutti gli anni hanno contribuito un po' alla mia scelta perché essendo tutti e due insegnanti di educazione fisica mi hanno comunque già da piccolo portato verso il mondo dello sport in una maniera un po' più ampia, diciamo, non solo magari ah sai vai a fare il calcetto e quindi comunque questa partecipazione dei miei genitori mi ha, diciamo, ispirato perché a me è sempre piaciuto questo loro modo di fare così con lo sport, a me comunque lo sport è sempre piaciuto, quindi diciamo che... A me colpisce molto una cosa, questa sera mi sembri il più convinto di quello che stai facendo e guarda caso sei l'unico ragazzo che sta seguendo le orme dei genitori in qualche maniera, non è un caso secondo me. Ma questo non lo so, però comunque è una cosa che probabilmente loro mi hanno tramandato, diciamo. E tu sei felice di questa cosa? Io sono, sì, felice e anche molto fiero, diciamo. Quindi senti anche un'appartenenza in questo senso. Sì, sì, sì. Allora io mi rivolgo adesso ai nostri ospiti perché a volte mi piace un po' sfatare i tabù e i luoghi comuni. La famiglia secondo me ha abdicato negli ultimi anni in Italia completamente alla formazione dei figli, ha lasciato tutto alla scuola e questo è un male, il primo aspetto su cui non sono assolutamente convinto. Secondo me tanti dei problemi che ci sono oggi per i giovani sono legati al fatto di essersi affidati completamente ad un'istituzione fallimentare. Avessero potuto far leva anche su un'altra istituzione, la famiglia, per quanto riguarda la realizzazione professionale, magari sarebbe stato meglio. E chi l'ha fatto sicuramente ne ha dei risultati. E vorrei sentire qualcuno di voi cosa ne pensate al riguardo. Andrea? Sì, queste ultime cercherate, sembra di nota che ci sia fondamentalmente un buco educativo, un buco educativo probabilmente da parte dei genitori che hanno ceduto la possibilità evidentemente di educare in maniera più completa alla scuola e soprattutto ad altri parametri. Secondo me non secondario è l'aspetto della televisione, che purtroppo negli ultimi vent'anni, come ben sappiamo, ha fatto tutto tranne che educare. Purtroppo molti ragazzi sono stati cresciuti a pane e grande fratello. Se noi chiediamo chi è l'attaccante della Juventus, sapranno tutti risponderci. Viceversa, se domandiamo chi è il ministro degli interni, probabilmente in pochi sapranno darci la risposta corretta. Questo non per avere un quiz o delle risposte a domande banali, ma semplicemente per usare un termometro. Quindi i giovani sono così perché da piccoli hanno avuto due babysitter, la scuola e la televisione. Purtroppo il termometro della situazione è questa e quindi quando lasci questo spazio di educazione ad altre fonti, soprattutto quella televisiva, purtroppo il risultato non ci si può attendere che sia ottimale. Guido Poccardi, la famiglia potrebbe fare di più nell'educazione dei figli? Sinceramente penso che la famiglia comunque possa sempre dare qualcosa in più rispetto all'istituzione, ai propri figli. Devo dire che però dal discorso che è stato fatto in questa ultima parte di questa trasmissione emerge un aspetto secondo me, che è uno di quegli aspetti che io noto molto anche quando si tratta di colloquiare con dei giovani che devono entrare nel mondo del lavoro. E cioè che spesso si è studiato, si è fatto l'università, si sono fatte anche delle esperienze professionali, si è fatte tutta una serie di cose molto eterogenee tra di loro, molto slegate tra di loro, che non appartengono in nessun modo, da nessun punto di vista, a una bozza di progetto professionale che forse se lo si avesse intuito a un certo punto avrebbe aiutato un po' meglio a focalizzarsi su determinate cose. Manca un progetto di vita alla base? Di vita, almeno dal punto di vista professionale, mi sembra di sì. Cioè io vedo dei curriculum molte volte molto pieni di una serie di iniziative, di attività, di studi, corsi di formazione, che danno molto la sensazione della serie, ho acchiappato alla prima opportunità che ho visto e mi ci sono buttato. Certo. Guido, torniamo su questo subito dopo la breve pausa pubblicitaria. Grazie. 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 Grazie.